Segui questa guida per prendere le misure e scegliere la protezione Blox adatta a te. Realizzata in gomma naturale, la protezione Blox è morbida, elastica e flessibile. Si applica su ingessature o medicazioni, creando un sigillo impermeabile intorno alla gamba. Con un metro da sarto, misura dal tallone ad appena sopra l'ingessatura o la medicazione. Poi, misura la circonferenza della gamba appena sopra l'ingessatura. Infine, confronta con la tabella delle taglie la lunghezza e la circonferenza che hai misurato. La protezione può anche essere più lunga del necessario, ma è importante che copra bene l'ingessatura, creando al tempo stesso un sigillo aderente. Scegli la taglia rispetto a cui le tue misure si avvicinano maggiormente al centro dell'intervallo di valori indicato nella guida. Ecco tutto quello che ti serve per trovare la taglia Blox perfetta per te.